Fedez lascia da parte la vita loca, circondato da modelle, amici e presunti flirt. Chiude agosto in Sardegna, nella villa affittata a Porto Cervo, con i figli Leone e Vittoria. Sul social posta tante immagini in cui è con loro. In una condivisa nelle sue storie ci sono i due bimbi, tornati dalla vacanza a Mykonos trascorsa con la madre, che dormono placidi. Sono loro a regalargli pace e liberarlo dai suoi tormenti. Il rapper 34n si lascia andare e svela, insieme. Le uniche notti in cui i miei demoni mi lasciano dormire, Federico Lucia maschera la sua inquietudine riempiendo le giornate senza i figli di cose superflue. Lussi ed eccessi non colmano il vuoto lasciato dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni e dalle preoccupazioni legate alla salute. Tante angosce lo affliggono e stavolta il suo animo guascone e polemico mostra una crepa che lascia intravedere tanto di più. Leone e Vittoria gli rendono la vita più leggera. Il primogenito di sei anni e la sorellina di tre donano all'artista quel di cui ha più bisogno, calore vero. Vittoria è tenerissima col padre e gli regala le parole più importanti, quelle che lui utilizza nel suo post, forse tendendo una mano all'ex moglie 37n. Non è bello stare arrabbiati perché è bello stare felici, dice la bimba mentre gioca sul divano con lui. Elementare, ma è davvero così.